16 febbraio 1941 nasce kim jong il il figlio di kim il sung dittatore della corea del nord dal 1949 al 1994 succede al padre e dopo il 2002 riallaccia i legami diplomatici con la corea del sud instaurando rapporti amichevoli con la russia prosegue la strategia atomica dotando la corea del nord di armi nucleari peggiora così ulteriormente i rapporti con gli stati uniti che annoverano la corea del nord nella lista degli stati canaglia muore il 17 dicembre 2011